... Energy Resources che dopo la sconfitta contro il Belluno vede l'allenatore Fede Giorgi rimproverare i giocatori dicendo che si è trattato di una brutta sconfitta che non si dovrà ripetere. Erana Balarani. Abbiamo giocato male. A Belluno non siamo riusciti a compensare, come sempre abbiamo fatto nei match precedenti, con l'atteggiamento più aggressivo. Non usa a mezzo i termini l'allenatore della Energy Resources San Giustino, Fede Giorgi, all'indomani della partita persa contro la Sisley Belluno nella quarta giornata del girone di andata di Serie A1 su Stenium. La squadra non può concedersi abbassamenti di tensione, ha detto, puntualizzando che una prestazione del genere deve capitare una sola volta. Secondo il tecnico la squadra deve trovare un gioco d'insieme, solo allora dovranno emergere le personalità dei singoli. La strategia giusta, secondo De Giorgi, è quella di seguire, se c'è un momento di difficoltà, chi nel gruppo cerca di dare una scossa. E nomina fra tutti Sam El Vuò, lo schiacciatore finlandese arrivato a San Giustino sabato scorso, e Tuomas. Tecnicamente, ha detto, è uno schiacciatore d'esperienza che ci offre un'ulteriore opportunità durante una partita. È più ricettore rispetto a Tols, per esempio. Archiviata ormai la disfatta di Belluno, De Giorgi parla dei prossimi avversari. Siamo in una fase del campionato nella quale dobbiamo affrontare tutti i nostri avversari a viso aperto. Su quattro incontri ne abbiamo sbagliato uno. Ora noi dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi e da questa partita persa dobbiamo trarne un miglioramento. Grazie.